bello va E' il tuo barbo non vienescono quindi se con questa nelle correntine così l'ultimo che ho preso là magari hanno bisogno di qualcosa di più rigido più vibrazione ho visto male di fronte a te di fronte lì dopo il prismi se non ho visto male esattamente lì non hai lasciato mai niente è quella lì è quella lì è quella lì è una saguania io ho visto lì è così lì è quello lì è quello lì sicuro No, cambiesca Nicola Vabbè, ormai che sei lì Sembra l'aveva visto una cosa Sì, sicuro È bello, è bello Diccio se è bello Bisogna mettergli una testa piovata All'interno di tagliarli lì Tacchi, secondo me ci vuole un J Un J Vinccio se l'aveva visto una cosa Vinccio se è grosso, tagli Vinccio se è ancora qui Vinccio se è ancora lì in mezzo Infatti io ho visto una roba nera Mi sono piantate giù Dovevo andare lì e non te glielo così di davanti Io lo so Io ho visto ancora di nessuno, non ero sicuro No, io adesso non sono più sicuro E poi vabbè, abbiamo visto Era bello, eh Era bello Spera che sei ancora qui Spera che sei ancora qui E non è detto E ha girato ancora con la testa della città Sì Non è detto che sei Spera che hai visto una cosa nera Devi tenerlo lì davanti fermo Che magari Con la testa piovata è nera Dice che con quello Spera che resta giù Hai capito, va sul fondo Secondo me ci lo tieni fermo Eh? E magari lo prendiamo là Eccolo qui Sì, sì, bello Eccolo lì Ragazzi c'è Guardate che bello No, no, no Grazie ancora E altro che L'hanno visto che era bello C'è il cuantico Ce l'ho io, ce l'ho io Stai tranquillando Ah, va Non mette 5 C'è la parte di un lento La parte di un lento La parte di un lento Si Si Ragazzi Un bel pesce 1,30 m Più meno Sì Non ci speravamo Eh, va un po' freddo però siamo venuti in un bel posto, il nostro posto che non delude mai guardate cos'è stato buono, perché bel pesce adesso lo misuriamo, lo pesiamo e gli diamo la libertà ci ho fatto divertire, gli diamo la libertà sabato 29 novembre abbiamo deciso di fare un'uscita a Siluri nonostante facesse molto freddo e tutto il resto però il risultato è veramente bello è un po' più disfacente è un po' più incastrato lì strike team c'è ragazzi, c'è sempre grazie a tutti